Here comes the bill Coach Gerosa, la più Old West Udine, si prepara ad affrontare la sua seconda trasferta consecutiva dopo aver potuto riposare a causa del rinvio della settima giornata contro la Fortitudo Bologna Come sta la squadra e com'è stata questa settimana di lavoro? La squadra sta bene, sta lavorando, sta lavorando forte come sempre c'è da dire che veramente i ragazzi ogni giorno quando vengono impiegati in palestra sono sempre vogliosi di entrarci in campo e di lavorare forte e sodo e soprattutto insieme uniti questo è un grandissimo vantaggio per noi e per quello che è il lavoro settimanale Domenica alle ore 21 i bianconeri affronteranno il derby contro Trieste la formazione bianco-rossa ha avuto un calmino altalenante però dopo tre sconfitte consecutive è tornata al successo su un difficile campo come quello di Piacenza senza Reyes Che partita ci dovremmo aspettare? Ci dobbiamo aspettare sicuramente una battaglia, non una partita una battaglia a ritmi molto alti dove a Trieste è riuscito a ritrovare comunque come abbiamo visto un ottimo filloi anche in assenza di Reyes ma dovrebbe essere presente poi Reyes nella nostra partita è una partita di veramente di intensità da un punto di vista offensivo noi dovremmo essere bravi il più possibile a pareggiare questa intensità offensiva a giocare al nostro ritmo cercare di limitare il più possibile le loro armi da fuoco quindi da dove traggono i vantaggi il più possibile per riuscire a tirare da tre punti cercare di buttarli fuori ritmo e dargli il più possibile meno la fiducia Rispetto alla gara di Supercoppe quante cose sono cambiate? Sono cambiate tante cose nel senso che sia per Trieste che per noi ovviamente c'è molto più consapevolezza da una parte e dall'altra di come giocare quali possono essere le certezze, quali possono essere un po' più gli equilibri da parte nostra sicuramente abbiamo fatto dei passi in avanti nel nostro sistema offensivo ma anche dal punto di vista difensivo abbiamo fatto dei grandi passi in avanti basta vedere il terzo quarto che abbiamo fatto a centro dove abbiamo messo in campo un'ottima difesa, un'ottima aggressività un'ottima voglia di aiutarci oltre che in attacco anche in difesa e quindi di difendere in cinque tutte le situazioni a posto che solo in sporadiche situazioni Grazie